Musica Chiude il rialzo Piazza Affari con il Fuzzi Mib che registra un progresso dello 0,95% e l'All Share a più 0,92. Spread BTP Bund in area 181 punti base. Sul listino milanese brilla Unipol Sai più 4,17% seguito da Luxottica più 3,95 e A2A più 2,42. Bene anche Iox più 1,96%. In calo Banca Popolare di Milano meno 3,36%. Quella dell'Emilia Romagna meno 1,82. Terna, rete elettrica nazionale a meno 0,74 e in Monte dei Paschi di Siena meno 0,72%. Tra le europee Francoforte avanza dell'1,63%, Parigi dell'1,59% e Londra guadagna l'1,3%. Madrid porta a casa lo 0,78%. Bay for 61, María for shant Jenny Bay for 81, cold dietro 61.